Salve a tutti amici di CryptoJam e benvenuti a un nuovo video, oggi andiamo a guardare un po' di notizie economiche andiamo a vedere un po' di trade che abbiamo fatto oggi, dopo un po' di tempo ovviamente è un mercato molto tosto quindi città pochi trade ma comunque quando ce li da sono abbastanza profittevoli ieri abbiamo avuto un bel long che abbiamo preso un po' di profitto qua in questo long che avete visto e poi oggi abbiamo shortato in questa zona qui, come vedete per il momento questi sono i nostri livelli di take profit stiamo aspettando che o continui o molti chiuderanno penso in profitto in questa zona qui i mercati hanno parto in negativo, infatti abbiamo fatto uno short anche sul Nasdaq, come vedete qui Nasdaq da questa flag, non si vede molto perché il mio chart è molto incasinato solitamente non è così incasinato, ve lo posso promettere è perché sto facendo dei nuovi studi, nuove cose, quindi è abbastanza incasinato comunque come vedete questa è la flag, dalla flag comunque ha fatto, questo era il mio primo take profit questo è il secondo, come vedete qua è andato affondato, sono uscito un po' in profitto molti sono ancora dentro, vogliono cavalcarlo fino al secondo take profit ovviamente poi ognuno gestisce il proprio trade questi sono altri trade, anche il gas oggi ha avuto un ottimo dump qui il gas già ci ha regalato due dump pazzeschi perché quando scende scende veramente adesso è tornato su e sicuramente troveremo un altro modo di dumparlo di nuovo perché il gas ovviamente è salito molto, in estate il gas cala sempre di prezzo infatti mi ricordo che nell'estate del 2021 ho cavalcato il gas quasi 200% in profitto è stato un ottimo trade, mi aspetto quest'anno qualcosa di molto simile magari alle porte di settembre, alle porte di ottobre e settembre quando comincerà a essere un po' più freddo quindi l'uso del gas sarà un po' più diciamo aumentato però ultimamente ci avevano delle notizie che indicano come la Germania altri paesi come l'America e l'Europa stanno cercando di trovare una soluzione al gas quindi per quello che il prezzo ha droppato anche di molto come vedete qui abbiamo avuto un mega troppo del prezzo del gas adesso lo stiamo guidando fino ai minimi penso che tornerà ancora più giù, molto più ai minimi quindi se volete entrare nel discord e provare a prendere con noi alcuni di questi trade fare con noi, vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda invece un'altra cosa che seguivamo era l'euro dollaro, vent'anni lo, quindi da vent'anni che non andava così giù ragazzi e se eravate nel discord anche questa è una delle cose che noi stavamo seguendo però su onda, dov'è? perché praticamente noi però guardiamo sul weekly perché solitamente questo viene cavalcato a lungo termine questo è un classico double top quindi io ho detto ragazzi questo sfonda, sfonderà l'1.03 e quindi è sfondato e continuerà ad andare a ribasso questo mi aspetto che sia un lungo, un lungo, un lungo swing vediamo fin dove arriva quindi se aveste avuto degli euro e li aveste switchate sicuramente o scambiate in dollari se vi interessa anche tradare il forex o gli stock noi stiamo ampliando molto questa cosa sia forex, stock e criptovalute giusto per avere più mercati in modo che se non diventano liquidi le criptovalute andiamo a tradare su altri mercati comunque tutti i mercati sono molto profittevoli come vedete il forex e gli stock sono molto più affidabili molte delle volte magari delle criptovalute quindi alcuni trade vengono un po' più facili e questo trade sta andando molto molto bene penso che lo terrò probabilmente per molto tempo se non vengo stoppato ovviamente ma sono già in profitto e io solitamente tengo a spostare il mio tech profit per non rischiare ovviamente di perdere tutto il profitto anche se ho un target in mente altre cose di oggi vediamo un po' il self hard price allora vediamo anche che il prezzo delle case quindi anche il mercato immobiliare sta per prendere un grosso hit quindi sta per prendere un grosso dump anche quello molti hanno paura che torna ai livelli del 2008 non penso proprio comunque questa è la proiezione solitamente degli spike di mercato vediamo questo è quello del 2008 dovrebbe essere qua quindi questa è la proiezione vediamo che siamo leggermente in alto ma questo si vedeva già i prezzi delle case erano molto alti ultimamente non so io vivo a Londra sono abituato a prezzi alti ma ultimamente erano impazziti i prezzi adesso vedremo che con l'aumentare degli interessi anche il mercato delle case sicuramente diminuirà poi vediamo un veloce recap del mercato 61 miliardi di volume non è tantissimo è leggermente meglio del solito infatti per quello che abbiamo avuto un movimento sul mercato bitcoin continua a perdere dominance mentre ethereum e le altre all coin continuano a guadagnarlo infatti vediamo che bitcoin scende molto più dell'all coin questo l'ho detto ieri nel video una cosa mai successa prima questo è anche dovuto al fatto che bitcoin è stato targherizzato dai dump che stanno succedendo sul mercato anche dalle liquidazioni pesanti molti sono in leverage molto più su bitcoin che sulle all coin cioè difficilmente le istituzioni vanno in leverage in questi mercati molto sulle all coin solitamente la gente punta a bitcoin o ethereum quindi questo è uno dei motivi per cui vediamo bitcoin continuamente dumpare in questa maniera per le liquidazioni sul mercato Celsius ha pagato 67 milioni di debito adesso ha portato il prezzo di liquidazione a 4 e qualcosa 4 milioni circa quindi adesso il loro prezzo di liquidazione è circa sui 4.000 qualcosa di bitcoin quindi molto buono sicuramente è un segno positivo non so fino a quanto è positivo però comunque è un segno positivo che comunque stanno cercando di mantenere in vita la società anche se a dire il vero ragazzo ho visto molti video in giro anche di gente che ha fatto delle investigazioni su Celsius e sinceramente anche gli interni la gente che lavorava dentro non era molto professionale nel senso che mi sa che hanno beccato due sono stati arrestati per cercare di money laundry quindi cerchiavano di ciclare dei soldi una era una ex porno star non che ci abbia qualcosa contro le porno star ma tipo aveva un'esperienza di pochi anni prima faceva la porno star e poi cominciava a gestire milioni di dollari della gente sinceramente se uno gestisce milioni di dollari mi aspetto che ci abbia avuto una carriera di 10-20 anni in finanza e non magari a maggior parte della carriera in film per adulti e poi a due anni soltanto di esperienza cioè soltanto a livello di esperienza più che altro niente a che fare con chi fa film per adulti assolutamente poi alcune cose positive riguardo gli NFT queste sono cose che io dico dall'anno scorso ormai il Lamborghini vuole autenticare le parti delle macchine usando gli NFT questa è una delle cose che avevo detto ragazzi gli NFT più che i meme, le foto, quella roba li hanno un uso vero e proprio e solitamente se voi volete investire negli NFT dovreste puntare ai progetti per esempio le layer 1 solution che hanno gli NFT per esempio Ethereum su cui vengono costruiti molti NFT quindi oppure adesso abbiamo anche Solana che li usano per gli NFT o Ada che adesso sta introducendo anche quella tecnologia NFT o anche altre sicuramente questi sono se volete investire in maniera non diretta diretta ma quasi indirettamente ma sempre comunque abbastanza diretta diciamo la verità e dovete investire nella tecnologia che sopporta gli NFT questo è un ottimo modo e gli NFT verranno usati anche per le case verranno usati sugli stock verranno usati sulle macchine che è la tecnologia per autenticare gli oggetti e non falsificarli quindi sicuramente molto utile ma non soltanto per fare delle foto quella è una parte piccola secondo me che a lungo andare nel tempo si ridurrà sempre di più poi USDC questo è quello che ho detto spesso ragazzi sta diventando uno delle top coin visto che adesso USDT e altre stable coin sono molto incerte è quello che ho sempre suggerito io mettete in USDC usate USDT solo per quello che vi serve per esempio io su Bybit per tradare c'è tipo un tot di dollari in USDT e gli altri ce li ho tutti in USDC perché se succede qualcosa un de-peg almeno non rimango fregato perché c'è tutti i soldi in USDT quindi questa è una cosa che io vi voglio consigliare da parte mia poi CryptoNelder next offer to buy il rivale Volt anche qui Next ogni tanto salta su vuole comprare ogni volta che sente poi è qua che cade secondo me cioè c'è un trucchetto sotto nel senso quando è successo Celsius sono saltato e sono detto ah no compriamo noi Celsius e poi hanno cominciato a fare tipo i post noi non abbiamo problemi di liquidità noi siamo migliori noi possiamo comprare abbiamo soldi per comprare non abbiamo rischio bla 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 adesso Volt e loro ah la compriamo noi poi alla fine non si sa mai se veramente comprano o non comprano sinceramente magari può essere solo una questione promozionale perché così tu no la vedi e dici ah next allo c'hanno i soldi loro sono soldi investo in next li metti addentro ragazzi mettete i vostri soldi in maniera decentralizzata su un qualche ledger adesso tanti mi stanno chiedendo di fare il video del ledger e lo farò presto però proteggete i vostri denari non mettete più di quelli che vi servono tanti mi chiedono c'ho euro c'ho quello qualunque cosa su un exchange diventa asset sul bilancio di quella compagnia quindi se quella compagnia aveva un fallimento non è che dice ah ok separiamo gli euro dalle cripto separiamo quei no loro prendono tutti gli asset perché sono tutti asset della compagnia e ti dicono tu non puoi ritirare più niente quindi che siano bitcoin che siano ethereum che siano euro che siano dollari tutto verrebbe preso nel vortice ritirato questo è quello che voglio farvi capire poi ecco questo è il prezzo di liquidazione 4.966 dollari bitcoin quindi spero che non vada così giù perché però se va così giù è un'ottima opportunità ovviamente per comprare bitcoin però vedo che michael sayler c'era sui 3.000 celsius c'era sui 4.000 quindi tanti pensano che potrebbe sfiorare o comunque avvicinarsi sui 10.000 o anche leggermente più di 10.000 quindi è anche un modo per capire sinceramente dove sta andando questa cosa bitcoin wall street riapre ancora in rosso come vediamo però ancora nessun minimo sicuramente ci ha avuto soltanto un mega dump vediamo qui c'è stato un double top anche oggi è stato un double top su bitcoin come vediamo qui non siamo entrati in questo trade per sfortuna perché questo è uno dei miei preferiti da tradare la price action con rotture sicuramente non sarei entrato qui ma sarei entrato la rottura dei 0.61 oppure la rottura delle ribbon che noi stiamo usando adesso sempre più spesso per trovare punti di uscita o di entrata quindi questo era un ottimo trade per sfortuna non l'abbiamo preso perché veramente un ottimo trade sarebbe stato sia sul bitcoin che sul nasdaq però era la mattina presto io oggi ero a fare una visita quindi non ho potuto tradare questo neanche vederlo perché non ho fatto le analisi appena sveglio però dopo siamo riusciti a fare l'analisi qui e abbiamo fatto un ottimo trade qui anche sul nasdaq sul gas e sugli altri l'euro dollaro anche simile guardate come sta scendendo poi ovviamente questo è un supporto ragazzi mensile quindi io dico sempre quando il supporto è così forte mensile è molto più forte di un supporto giornaliero quindi quando rompe rompe seriamente guardate qui la rottura cioè alla rottura ha già fatto un 1% che sul forex è tantissimo so che molti diranno 1% bitcoin fa 1000% sul forex è veramente tanto ragazzi tanto poi se lo fate con un po' di leva questi sono tantissimi soldi quindi chi fa forex sa che l'1% così subito è tanto comunque questo è tutto per quanto riguarda diciamo bitcoin e il mercato di oggi bitcoin per quanto riguarda le analisi generali se volessimo proprio parlare di analisi a livello di analisi diciamo ieri c'è stato un pump che noi avevamo preso in quest'area qui quest'area qui blu quindi per me quest'area qui blu sta diventando veramente target molto vitale per il senso di se venisse rotta e confermata su dei frame più alti questa qui o dei volumi una rottura con volumi grossa potrebbe essere veramente un il punto di rottura che porterebbe bitcoin ai 600 ai 600 lo sto dicendo ai 16.000 15.000 e queste cifre qui quindi questa zona qui blu dei 19.000 quindi perché ovviamente adesso ha rotto i 20.000 e i 20.000 stanno facendo da resistenza quindi abbiamo visto che è salito qua qui avevo messo i miei punti di supporto qui abbiamo visto che è salito fino ai 20.000 e 5 ok e poi ovviamente ha fatto un double top e poi si è rotto è rotto di basso ed è sceso giù e quello che penso i 20.000 ovviamente i 20.000 non è un numero fisso ragazzi ma è tutta questa zona tutta questa sono i 20.000 i 20.000 stanno facendo da supporto quindi da resistenza scusate stanno facendo da resistenza quindi adesso ci troviamo tra i 20.000 e i 19.000 se i 19.000 vengono persi ovviamente andremo giù verso i 16 16 715 tutti questi numeri qua di cui sentiamo parlare però per il momento i 19.000 sta tenendo molto bene abbiamo avuto un affondo fino ai 18.000 però comunque siamo sempre nel range dei 19.000 e bitcoin lo stanno cercando a tenere lassù come vediamo bitcoin ci ha avuto una lieve scorrelazione dal mercato economico infatti ormai vediamo che i movimenti bitcoin non rispecchiano del tutto quello che succede nel nasdaq è vero che il nasdaq se apre a ribasso e dampa leggermente vediamo bitcoin dampare però per molte volte per esempio questo spike non è stato preso da bitcoin come vediamo leggermente poi ci sono stati altri dump o altri pump che non sono stati presi da bitcoin quindi vedo che non è più così uno a uno come prima si sta leggermente scorrelando cosa buona perché comunque dopo un po' stanca avere questo mercato correlato tutto va giù tutto va su tutto va giù tutto va su anche per i trade perché noi quando cerchiamo di tradeare cioè io faccio l'analisi sui bitcoin poi devo fare l'analisi sul nasdaq sull'SNPX cioè devo fare l'analisi su 5 o 6 grafici prima di prendere un trade su bitcoin e quindi capite anche la fatica per un trader di fare così tanti trade immaginatevi quando facciamo le altcoin quando tradeo le altcoin devo guardare bitcoin bitcoin, ethereum s&px e nasdaq e tutte queste cose notizie economiche quindi sta diventando un po' un po' eccessivo diciamo a livello di time time management e consumo diciamo anche di energia comunque questo è tutto ragazzi per il momento spero se vi è piaciuto il video lasciatemi giù un like e un commento se pensate magari quale exchange avete i vostri soldi sopra visto che tanti già me hanno scritto io c'ho i soldi qua c'ho i soldi la ragazzi se è un exchange centralizzato pericoloso decentralizzato sicuro poi io non sono il mago merlino che sa se binance è meglio di un altro binance ovviamente è un tier 1 quindi coinbase e binance sicuramente sono più sicuri delle altre piattaforme però a sto punto con queste liquidazioni con questo mercato così incerto non lo puoi mai sapere penso che binance sia abbastanza sicuro però sinceramente dopo quello che è successo ha il domino affetto al mercato io starei comunque attento e non metterei più soldi di quelli che mi servono per esempio tenete soldi in decentralizzato quando vi serve scambiarli li mettete su binance li sgampiate e poi li mettete in maniera decentralizzata tutto per il momento e ci vediamo al prossimo video